Non muoverti! Non costringermi a venire lì perché non ti piacerà! Tu! Ti hai staggiato! Ora! Tu! Che ne dici se ti infilo un bastone nel nale? Tu! Che ne dici! Sì, non lo so. Il nostro obiettivo è vero che la loro voce è riuscita. È un signore di una società giustica e civilizzata. Il signore di anarchia e di malattie, Morla. Il signore di popolazione è quello che è riuscita. Cosa dovremmo non avere una cosa nella nostra città? Cosa calma? Cosa città? 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 Non c'è nessun risotto? Cosa città? È un signore buono. E oltre esolato. ida Sì! Grazie a tutti. 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 Complesso di inferiorità, credo. Bene, ci va in centrale.